in diretta da sanremo sono con francesco renga ciao francesco come stai io sto benone tu come stai bene grazie c'è il sole oggi si sta bene sotto pressione un po' sì ma sì giustamente sotto pressione diciamo che quando vieni qua io almeno so che vengo per fare un bel lavoro un grande lavoro quindi lo faccio vengo allenato occhiali da sole sì ma li tolgo perché hai ragione facci vedere il volto senti due canzoni molto belle tra le quali era difficile onestamente scegliere sei soddisfatto del risultato guarda adesso che è passata sì sono molto soddisfatto nel senso che mi piaceva questa canzone vivendo adesso è un regalo di un'amica di un'artista strepitosa elisa e quindi mi piaceva mi piace restituire il favore portando almeno la canzone fino alla finale quindi sono molto soddisfatto l'altra una canzone ugualmente bella secondo me con delle enormi potenzialità e che avrà una vita ovviamente è futura diversa da questa del festival settima volta per te al festival di sanremo cosa c'è di diverso rispetto al passato tu tra l'altro sei rinato con raccontami proprio qui al festival e qualche anno dopo la situazione com'è la situazione in questo momento è la scelta di fare sanremo è proprio dettata dalla cosa che hai sottolineato tu la voglia di venire su questo palco e dare il segno di una novità di un cambiamento e di una upgrade se vuoi in quello che è il mio lavoro la novità è anche appunto venire a sanremo da interprete puro questa volta e venire per promuovere un disco tempo reale che uscirà subito dopo il festival che è appunto stato pensato per diciamo fare dare l'idea di un'evoluzione di quello che è stato il mio lavoro fino ad ora ci sono tante novità nel senso che c'è una nuova case discografica la sony e c'è un produttore nuovo che è michele canova col quale siamo riusciti riusciti ad individuare una via che fosse appunto emblematica di questo cambiamento quindi ci sono dei nuovi suoni ci sono delle canzoni scritte da me anche in maniera differente c'è un nuovo modo anche di usare la voce c'è una nuova idea di arrangiamento di produzione di questo disco che è molto come dire contemporanea molto legata al tempo che stiamo vivendo così come vedo il festival di quest'anno era un festival al quale volevo partecipare proprio perché sapevo che Fazio sarebbe riuscito a dimensionarlo in quello che è il mood del paese in questo in questo momento quindi sono molto felice di essere qui sono molto felice che il festival sia così com'è che sia come dire con i piedi per terra credo che qualsiasi altro tipo di interpretazione di questo festival in un momento così drammatico come quello che sta vivendo il paese sarebbe stato assolutamente sopra le righe ridondante quindi sono contento che non sia un festival di lustrini e cotion che in qualche maniera stride insomma con quello che è il momento ecco allora alleggeriamo un po perché alleggeriamo certamente ti devo chiedere cosa significa essere l'uomo più corteggiato del festival da quando sono qui mi continuano a scrivere non corteggia nessuno salutami renga bacia renga che effetto ti fa piacere così tanto le donne è una cosa la quale sono abituato da tempo da anni da anni non lo so per me è in dubbio che fa piacere nel senso che se sei repellente ovviamente soprattutto per chi fa il mio mestiere potrebbe essere un problema si lascia il tempo che trova nel senso che si mi fa piacere essere come tutti ben voluto soprattutto io ho un pubblico molto bello caloroso che 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 mi ama però anche una famiglia che mi ama e quindi da questo punto di vista sono molto sereno sottolineiamo una volta in più senti venerdì serata di duetti tu che cosa farai venerdì faccio porto una canzone bellissima di edoardo bennato che è un grande un grande cantautore e forse la canzone che ho cantato la prima volta che sono entrato in una sala di prove proprio in una cantina altro che sala prove credo che avessi 13 o 14 anni quindi è un cantatore che ho amato tantissimo i dischi primi dischi li conosco a memoria infatti per questa canzone un giorno credi non avrò bisogno del gobbo credo che fosse uno dei ed è uno dei cantautori che è riuscito a interpretare meglio anche con quello spirito con quel cinismo con quell'ironia è riuscito a interpretare il suo tempo il tempo che che io vivevo quando ero piccolo in maniera divertente e divertita quindi l'ho amato sempre particolarmente sono contento di fare questa cosa anche con un amico che mi restituisce il favore che ecco dei modà che mi accompagna in questa avventura e lui è un altro personaggio incredibile è un amico è un artista a tutto tondo quindi sono sarà una bella serata anche quella quanto è importante la vittoria per francesco renga al sanremo 2014 no non è importante sembra un luogo comune ipocrita ma non è così non è importante la vittoria era importante fare questo sanremo così come stiamo cercando di farlo io i miei collaboratori le mia la mia casa discografica e tutte le persone che mi stanno aiutando in questo percorso in questo viaggio la vittoria io l'ho sempre pensata come anche quando ho vinto prima di tutto l'ho non l'ho mai aspettata forse neanche cercata in realtà perché ho sempre pensato che appartenesse più a quel gioco che è più vicino alla televisione che non che non a quello che poi noi artisti facciamo su quel palco è divertente ovviamente ovviamente fa piacere vincere mi farebbe piacere la statuetta così ne avrei due una per ogni bambino almeno non se la litigano la sera a casa mi sembra la motivazione più bella portata fin qui in bocca al lupo francesco viva il lupo grazie a tutti ciao ciao ciao